ciao a tutti benvenuti di nuovo nel mio canale allora oggi sono qua con un nuovo video ricetta e oggi vi voglio presentare e fare vedere come ho preparato queste deliziose ciambele fritte all'olio adesso vi presento gli ingredienti che ci occorre e vi lascio anche gli ingredienti scritti sotto il video allora ci occorre 80 millilitri di olio girasole 80 grammi di fecola di patate 2 ova una bustina di vaniglia a roma 20 grammi di levito di birra fresco la buccia di un'arancia 250 millilitri di latte tiepido circa 80 90 grammi di zucchero e la farina che sarebbe circa 600 grammi mettiamo finché il composto è abbastanza duro allora adesso procediamo allora per prima cosa vado a mettere il latte insieme al levito fresco lo facciamo sciogliere un po aggiungo lo zucchero e aggiungo l'olio di girasole grattugio la buccia dall'arancia mescolare tutto insieme aggiungo la vaniglia piano piano aggiungo la farina poco alla volta mescoliamo con l'aiuto dal mano la farina finché basta lo mettiamo a riposare per circa un'ora un'ora mezzo comunque non deve riposare meno di un'ora più riposa più soffice verano aver trascorso circa un'ora e mezzo un'ora 40 minuti come vedete l'impasto si è raddoppiato adesso metto la farina e vado semplicemente stenderla lo stendo in modo non troppo sottile deve essere un po circa dimensioni di un centimetro di altezza come vedete poi prendo un bicchiere un pochino grande e faccio questi rotoli in questo modo quando ho finito prendo un'altra cosa che questa sarebbe dalla crema quella che fai le torte prendo e faccio i buchi in mezzo io li ho messo sulla carta forno invece voi li potete mettere su qualsiasi cosa e li ho messo a riposare ancora per circa mezz'ora per raddoppiare dopo procedo con la frigitura allora ho aggiunto un litro di olio nella pentola quando è la temperatura giusta ho iniziato a friggere le ciambelle dovete essere molto rapidi quando li mettete nell'olio perché sono molto delicate e si friggiono subito quindi dovete essere rapidi per girare da un lato e l'altro altrimenti vi trovate con le ciambelle bruciate e dopo che avete finito da friggere le potete spolverare con zucchero a velo o semplicemente con lo zucchero come ho fatto io li ho fatto girare nello zucchero li potete anche farcire con la mermelata insomma potete fare come desiderate vedete li ho fatto girare nello zucchero e questi sono il finale dalle nostre ciambelle guardate come sono bene adesso rompo una guardate vedete